Praticamente sono 30 anni che abbiamo le oche qui, mai successo niente, praticamente ce ne avevamo fino a 30, purtroppo è arrivato qualcuno, ce l'ha portati via tutte, ce l'hanno uccise. E' a questo esperto che sono stati dei lupi, un branchetto dei lupi, che sono affamati, purtroppo attaccano anche vicino a casa, anche a 10 metri dalla casa. Adagiate lì, sull'appezzamento di terreno del signor Nucci, sono soltanto tre delle dieci oche che nella notte, tra sabato e domenica scorse, i lupi hanno ucciso. Alcune di loro riportano i segni dell'attacco, altre invece non ce l'hanno fatta dalla paura che in quegli istanti hanno provato. Altre tre invece si sono salvate. Siamo in strada Madonna degli Angeli, a Sant'Andrea in Villis, nel comune di Fano, dove un branco di lupi sono entrati nella proprietà di Dante, facendo razzia nel recinto degli animali. Dante, che cosa è successo? Nella mia proprietà è successo che domenica mattina, alzandomi alle sei e mezza, nel buio, ho visto andando su che c'era un'oca qui in mezzo al campo. Siamo girando con i cani e non ho visto più le oche, saranno dall'altra parte. Allora ritorno giù con i cani, c'era mia moglie qui, la Cleofe, mi dice non ci sono più le oche, sono tutte morte, non ci sono più. Non lo so, abbiamo guardato e abbiamo trovato un'altra là e un'altra dentro lì, dentro il recinto. Praticamente le altre non sappiamo in dove sono finite. È successo qualcosa di grosso perché dieci oche sono tante. Allora ho cominciato a guardare, abbiamo visto queste zampate, allora ho chiamato un esperto per sapere, perché non sapevo io. Ha misurato queste zampate, ha detto no, qui è il lupo, che si è avvicinato perché questi lupi, ha detto ci sono a Carignano, è un branchetto di 6-7 lupi, ha detto sono in giro. Praticamente non ci sono più caprioli, i cosi qua, uno aveva i capretti, li ho avuto da chiudere perché sennò entravano tutti. Praticamente non hanno più da mangiare, i lepri non ci sono più, cosa mangiano? Adesso attaccano vicino alle case, vengono a prendere gli animali di penna perché non hanno più niente da mangiare. Quindi i lupi hanno scavalcato la rete? Hanno scavalcato la rete, sono entrati cavalcando le reti. Quanto è alta la rete? È alta un metro e venti praticamente, però l'altra, la recensione è molto alta e non hanno spugato da nessuna parte, perché con l'esperto siamo andati a vedere giù e non hanno spugato, hanno solo scavalcato. Queste ocche le hanno portate via perché non ci sono in giro, le ocche non sono come i caprioli che li mangiano lì, queste se le hanno portate via perché hanno i figli e qualcosa. Starnazzano le uniche tre ocche rimaste, quasi a richiamare le altre che ora non ci sono più. Non si può fare finta di nulla, ha aggiunto poi Nucci, una situazione che sta diventando ripetitiva e pericolosa. Perché succedono queste cose? Se loro, gli animalisti vogliono tenere gli animali, questi lupi, per carità, io sono molto contento, però devono darli anche da mangiare, portarli su, facendo i cacciatori con i cinghiali, portavano su da mangiare per loro. Noi non possiamo perché adesso qui va bene, è successo, va bene. C'era un bambino qui, arrivano di giorno, un bambino, vanno giù, cosa succede? Comunque siamo messi male con questi lupi.